E quando sono tornata in partita è successo questo Cioè sembra di essere in Jumanji stiamo scherzando Guarda come è ridotta la nostra casa Chi ci segue? Ci seguono tutti? No ci segue uno Ci segue uno ma non so che livello sia Aspetta 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 Che senza crypto non sono così bellicosa sinceramente Mi stanno seguendo in tanti in realtà Un 83 aspetta 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 aiuto Sì ce l'ha con noi ora Sì ora ce l'ha con noi ora ce l'ha decisamente con noi Aspetta 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 tizio tizio aspetta aspetta Buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale Io sono Ember the Gamer e oggi andiamo a caccia di grifoni Ma prima sì vi faccio vedere un po' di novità che potrete già notare Là dietro abbiamo costruito qualcosa Ah sì questa è la piccola adorabile Viverna che abbiamo fatto nascere lo scorso episodio Per i genitori sono uno là e l'altro là Lucifer e Chloe E questa splendida piccola adorabile creaturina è diventata mega gigantesca Allora ecco cosa abbiamo combinato mentre la nostra piccola meravigliosa adorabile Viverna cresceva Abbiamo finalmente riordinato un pochino le bestie perché erano tutte a mezzo Mi stavano sempre tra i piedi Ginetto ci si incastrava in mezzo ogni due per due Quindi abbiamo deciso che forse era meglio risistemarli Quindi abbiamo costruito questa cosa che personalmente mi piace molto Allora qui sotto abbiamo messo principalmente le bestie da raccolta Quindi ci sono i tre castorini C'è il povero solitario anche il osauro Poi gli troveremo una compagnetta anche a lui Abbiamo il drago spinoso e il nostro parasaurino Ovviamente per loro ho dovuto fare il tattuccio un pochino più alto E no per gli spino non faremo la casetta perché sono esageratamente grossi Quindi non mi sembra il caso La sopra invece abbiamo posizionato i nostri ptero Per ogni singola creaturina c'è il cancello che si apre se gli va in faccia ma non importa E noi da qua possiamo accedere alle nostre creature e portarle in giro a raccogliere roba Da questo lato abbiamo fatto un ingresso alla parte interna delle stalle diciamo così E qua ci sono le scalette che ci portano su agli ptero ma quella parte la vediamo dopo Di qua appunto c'è il passaggio Qua penso che ci metterò forse una o due mangiatoie E di qua appunto c'è il passaggio con un po' di finestrelle Perché ogni tanto un po' d'aria qua dentro probabilmente servirà Non appena avremo finito di chiuderla un pochino E poi di qua niente il passaggio è ostruito dalla codona del drago spinoso Però non importa va bene lo stesso Tanto non è che ci passeremo spessissimo qua dietro Di sopra invece abbiamo appunto i nostri tre ptero E qui hanno largamente spazio loro per stazione tranzolli Tranzolli in tranquillità E per noi di passare e arrivare a tutti gli ptero all'occasione Allora personalmente ammetto Sono molto fiera di questa stalla per le bestiacce Aspetta che ci spacchiamo una cavigliaia Ok no perfetto è andata anche bene Oltre a fare questa struttura bellissima e meravigliosa di cui vado molto fiera e orgogliosa Ho scoperto che c'è una specie di GPS da applicare alle bestioline Per evitare tipo di perderle o una cosa del genere Non l'ho mai testato e sono curiosa di testarlo Quindi io e Ginetto ci siamo addomesticati veloci veloci Un Moscops che adesso metteremo No aspetta prima di metterlo in passeggiata Vorrei testarlo Allora io faccio equipaggia Ok Ok quindi sulla destra Ginetto ha il ricevitore Presumo il telecomando che attiva il GPS E ora questo lo dovremmo tipo lanciare addosso alla bestia Io spero che funzioni Spero di non farle male soprattutto Tipo così Ah ok eccolo Eccolo gli rimane attaccato qui Ah che bellino anche visibile Ok Perfetto quindi ora io ti metto in modalità Passeggiata Vai vai in giro Lui dovrebbe raccogliere roba in teoria Perché gli abbiamo impostato qui Un po' di roba da raccogliere Allora vediamo di spostare la nostra bestiolina da questa parte Così non si incastra tra le nostre bestie Tra le nostre strutture No ma guarda Ma poverino l'XX Ti sei ancora incastrato lì Ma ragazzi ma è una tristezza vedere sta cosa gigante Che sbuca da sta pozzanghera Vabbè basta Compi non rompete l'anima No compi no Compi no Ah raccoglie anche carne la bestiolina Ok Allora Io lo lascio andare per i fatti sui Guarda che arriva un altro compi Maledetti compi Oh povero dodo C'è passato anche il dodo No ma guarda lì Ma basta ragazzi Ma però è forte il moscops Non lo sapevo Che cazzutiello Ok tipo Adesso lo lasciamo qui per i fatti suoi Ecco lui sta raccogliendo Perfetto Sì vorrei che mi raccogliessi altro Io ho detto di raccogliere anche altra roba Tipo anche sangue di sanguisuga Voglio vedere proprio come fa a raccoglierlo Ma vabbè Ok allora dall'ultima clip che ho registrato E che avete visto E sono passate in realtà diverse ore Perché Ark ha cresciato E c'è stato un aggiornamento di soli 7 giga Così tanto per gradire E quando sono tornata in partita È successo questo Cioè sembra di essere in Jumanji Stiamo scherzando? Guarda come è ridotta la nostra casa Ma perché? Ok che volevo metterci qualche piantina in più all'interno Per fare un po' più verde Ma così è troppo verde Esageratamente Ma non riesco neanche a raccoglierle io ste piante Vero? No Devo buttare giù tutto Ma davvero? No vabbè Ma non è giusto Ma perché? No guarda Anche la costruzione per le bestie Che c'eravamo appena fatti È tutta di nuovo piena di piante Mi fate passare Scusate che volevo Vorrei vedere i danni fatti da questo aggiornamento Guardala dietro Pieno di piante Ma porca puzzolina Oddio c'è Kripto nella roccia No mi hanno rifatto spunere questa roccia Aspetta 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 Kripto Sei intrappolato nella roccia Aspetta No Ma povera bestia Ma perché? Ma riesco a salire? Sì Ah ok Non è tanto piantato Ah ok ok Perfetto Temevo fosse proprio incastrato Invece no Per fortuna Vabbè le butteremo di nuovo giù più tardi queste Ma perché? Ma perché? Vabbè non importa Allora il moscops Dovrebbe essere ancora laggiù che gira Quando torniamo vedremo se il ricevitore funziona E cioè il 60s non me l'hanno desponato Ok Grazie Perfetto Allora Per andare a caccia del meraviglioso fantastico grifone Noi ci siamo attrezzati in questo modo Nell'inventario di Crypto abbiamo messo un pochino di costruzioni Perché voglio provare a costruire una trappola Non so se riusciremo Però ci voglio provare E ci siamo portati dietro l'optero nella sfera poche E così vediamo un pochino se riusciamo a intrappolare il grifone Utilizzando appunto l'optero diciamo un pochino come esca forse E poi ci siamo portati un altro fucile Un po' di narcotici Anche la balestra perché non si sa mai Queste cose si rompono nei momenti peggiori Io lo so Io lo so Ora Crypto è lento da morire Ci metteremo l'eternità di sempre per arrivare Ma non importa Prima o poi arriveremo Che poi stavo pensando quasi quasi Se la trappola funziona bene La possiamo usare anche per prenderci una coppietta di Argentavis Da far accoppiare Perché no perché no Di grifone ne prendiamo solo uno Perché tanto non li posso nemmeno far accoppiare Quindi non ha molto senso farsi lo sbattone di prenderne due A meno che non vogliamo farci tipo la collezione In base al colore dei grifoni che vediamo in giro Che poi è un peccato Mi piacerebbe tanto vedere un cucciolo di grifone Però magari esiste qualche mod che ci permette di farlo Dovrò dare un'occhiata Dovrò dare un'occhiata Allora la zona con i grifoni dovrebbe essere questa qua dietro Dove ci sono tipo i canyon Quindi direi che No qui no perché siamo troppo vicino alle viverne Ma da questo lato potremmo anche provare a costruire La trappola qua in alto Così non ci rompe le scatole nessuno Sì qua mi sembra perfetto Qua mi sembra proprio perfetto Siamo anche abbastanza vicini all'acqua Perfetto così Ginetto non ci muore disidratato Ottimo Sei contento Ginetto? Che stai sempre rompendo le scatole perché c'hai sete? Allora 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 Vediamo di piazzare Prima di tutto le basi Della trappola Sarà un 2x4 Ovviamente la trappola non è farina del mio sacco Ho visto un video su youtube dove facevano così Quindi ho detto ma si ci proviamo anche noi Perché no? Se me lo ricordo e se lo ritrovo Vi metto anche il link del video in descrizione Ok un portone gigante di qua Un altro Dov'è? No non il fucile Ginetto No dopo il fucile Dopo Allora un altro di qua Tipo così Ok Ma di qua ci passa davvero il grifone? Ma siamo sicuri? Oh il tizio nel video mi sembra che usasse questi Mi sembrava usasse questi di portone Sì dai secondo me ci passa Secondo me ci passa Allora mettiamo un paio di Queste qui No lo vorrei mettere un po' più Tipo più attaccato Vabbè Riempiamo tutto di colonnine Così la bestiaccia non può uscire Noi gli possiamo sparare con calma Forse forse gli sto mettendo anche troppi pilastri Magari non servono tutti questi Però sai che c'è Sai che c'è Preferisco andare sul sicuro Mettiamo un po' di tetti Se ci arriviamo Ginetto Noi è la La bassezza No Non è venuto più basso di quel che avrebbe dovuto Vediamo se da sopra Crypto riesco a piazzarli un po' meglio Ok Ce n'è uno che è là dietro Che non è venuto benissimo Ma vabbè La bestiaccia non dovrebbe comunque riuscire a passare Ok Oh no me ne manca uno Secondo me di qua ci passa Perché l'ho messo lì Dannazione Me ne devo andare a fare un altro Vabbè non importa Tanto mi serviva Andare a recuperare un po' di materiali Perché Me ne manca più di uno in realtà Di tettuccio Vabbè Perché voglio anche farmi una scatoletta Un contenitore Per metterci tutta la roba Che non può portare poi L'optero Perché il peso ovviamente è uno schifo Guarda quanto metallo che c'è qui Eh però 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 Wow Ah raptor Raptor Aspetta Aspetta Ok Ciao Davvero un gallilimu si è incastrato Nell'ala di cripto Ciao Ok E due scatoline Ce le abbiamo Per poterci mettere Da parte un po' di cose E ci siamo anche finiti Di fare i tetti Perché a quanto pare Ho fatto male i conti In più uno l'ho sbagliato Ho sbagliato a posizionarlo Quindi vabbè E anche l'ultimo tetto messo Perfetto Ah no Ce n'è anche uno lì Che manca Vabbè non importa Dai non dovrebbe poter uscire Da qui con la bestiaccia gigante Ok Allora in teoria La gabbia è più o meno pronta Volevo provare A bloccare però La creatura Un po' prima della porta In modo da poter Da avere il tempo Di chiuderla Però non mi fa piazzare al centro Il pilone Dannazione Però aspetta Se io Aspetta Fammi un attimo Piazzare qua i piloni Poi me li distruggo Che non ho voglia Di andare a raccogliere Materiali in giro Speriamo che me ne dia Abbastanza di materiale Per fare quello Che voglio fare Ok Ci facciamo Un paio di paretine E così In teoria Se io gliele piazzo Tipo Così Lui forse Non riesce Ad andare Oltre Per Uscire Poi da quest'altro lato Giusto Non lo so Non sono molto convinta Di questa cosa Facciamo una prova Allora Ci piazziamo Qui intanto Sì Ora ti do Da bereginetto Oh guarda Abbiamo già consumato Due bottigliette d'acqua Allora Io mi piazzo Tipo Tutto qui Dentro Adesso Perché dobbiamo Appunto andare Con il Con l'optero Che ovviamente Non può portare Una mazza Vediamo di liberare Il nostro optero Eccolo qua Perfetto Tu mi reggi? Sì Sì Oddio Non va particolarmente veloce Un po' pesantuccio Però vabbè Aspetta che gli possiamo Alzare il livello Vediamo Ecco un po' di peso Così tanto per gradire E Crypt Vediamo un attimo Di metterlo Non troppo lontano Ma un po' lontano Che non vorrei che intervenisse Durante Tutta la procedura Per attirare qua Il griffone Non mi fido nemmeno A metterlo nella sfera Poché Sinceramente Quindi Preferisco lasciarlo lì Tranquillo Tranquillo Guarda che noi siamo sempre Ad inzozzare in giro Per Ark Molliamo sempre un sacco Di roba in giro Ma vabbè dettagli Allora tanto per cominciare L'optero ci passa Senza problemi Giusto? Sì Perfetto Noi facciamo A così E usciamo E preghiamo Che la creaturina Rimanga invece bloccata Lì dentro Ok dai 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 Va bene va bene Andiamo a cercare Un griffone Quindi andiamo nel Gran Canyon Ricordiamoci la benedetta Stamina Dell'optero Secondo me il griffone È più veloce Dell'optero Io ho paura Che ci acchiappi Tipo subito Uffa Sono abituata Con Crypto Che non ci attacca Nessuno Con l'optero Sinceramente C'ho un po' paura Girare in sta zona Dico la verità Lo confesso Ce la stiamo un po' Facendo sotto Io Ginetto Allora Lì c'è un bel griffone Solitario Che Quasi Qua Uh due griffoni Due griffoni Ok che non stanno litigando Con niente Nessuno Ah mi hanno già vista No forse no Ok ok Vediamo un attimino Questi due Che livello Vedo l'ombra Ma non vedo il griffone Ok livello 71 Ok possiamo anche Provare a cercare Qualcosa di meglio Sinceramente Ah guarda di là Guarda di là Vediamo un pochino Cosa ci offre il mercato Oggi 41 No 45 No 16 Decisamente No Un livello 20 E vabbè ragazzi Ma uno di livello Un po' decente Non esiste 71 Ok però Cioè tipo Sopra il 100 Non troviamo niente Ma perché Vista la sbatta Che ci siamo fatti Anche per costruire La gabbia Sinceramente vorrei Tentare con qualcosa Di un po' più interessante Dai che si sta anche Facendo buio Porca puzzolita Ok qui sotto C'è un bel macello Che cavolo Con chi ce l'hanno Con un povero Due di curo Ma non gli stanno Facendo niente Peraltro Gli girano solo intorno Allora ho visto Un 40 Un 41 Un Un Aspetta aspetta Un 16 Un 121 Un 121 Un 121 E come faccio A farmi seguire Solo da quello Però Aspetta 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 Ciao Ciao Ah aiuto 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 Chi ci segue Ci seguono tutti No ci segue uno Ci segue uno Ma non so che livello sia Aspetta 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 Che Senza cripto Non sono così bellicosa Sinceramente Livello 16 Ma porca puzzola Porca puzzola Livello 16 Ci sta seguendo Non ci poteva seguire Il 121 No Vediamo disseminarlo Che pizza Ci andiamo a imboscare Qua dietro le rocce Ci seguirà Giochiamo a nascondino Con il grifone Vabbè che funzionato Non ci segue più Però si sta facendo notte Quindi forse Forse io attenderei Il mattino Prima di Arrischiarmi di nuovo Qua sotto Valla a ritrovare Ora il 120 Più che altro Eccolo là il 121 Eccolo là il 121 Oh Va bene Speriamo non si sposti Da lì E noi attendiamo Che ci sia di nuovo Luce Guarda come sbrilluccicano Le finte gemme Là sotto Maledette Mi hanno tratto in inganno In realtà sono pietre Ok La notte è quasi passata Sta sorgendo il sole Qui c'è un casino Imane Perché si sono aggiunti Altri grifoni Nel frattempo Durante la notte Quindi ora Vallo a trovare Di nuovo il 121 Qui un sacco di grifoni Si incastrano In mezzo alle ossa In mezzo alle rocce Guarda lì c'è uno Incastrato fra le rocce Sei il 121 È il 121 È il 121 Aspetta 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 Si è isolato Si è isolato un pochino Si è isolato un pochino Vediamo 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 Seguitemi Seguitemi Qualcuno mi segua Qualcuno di livello alto Mi segua Mi sta seguendo uno Ma non mi sembra Il 121 Sinceramente Mi stanno seguendo In tanti In realtà 1,83 1,83 Aspetta 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 Aiuto Allora vediamo un attimino Di fargli perdere Le nostre tracce Poi ci controlliamo I livelli con calma Mi stanno ancora seguendo Si sono Uno si L'altro no Ah ok Ok Si sono dimenticati In fretta di noi Vediamo Lì ce n'è uno Vediamo 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 Ci attacchi subito No Mi sa che è il 121 Quello 121 Perfetto 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 Allora Ciao Ciao tizio Mi segui Ciao Ciao Ah 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 Scusa Scusa Non volevo farti male Cioè in realtà volevo Ma volevo solo Attirare la tua attenzione Perfetto Ok ci sta seguendo tantissimo Io spero che la stamina Duri fino alla gabbia Seguici Seguici Ok Speriamo che Crypto non se la prenda Col griffone Che sennò diventa Un macello Aspetta Dov'è la trappola Di là No 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 Grifone 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 Scusa Grifone 121 Io stavo cercando Di attirare la sua attenzione Salve Mi segue Sì ci segue Ok Sì però tizio Stammi dietro Ti prego La stamina Della mia bestiolina Non è proprio il massimo Ok Ok si è distratto Con uno scorpione Nel frattempo Noi ne approfittiamo Per ricaricare la stamina Ottimo Mi piace Mi piace Bragvo Grifone Livello 121 Ottimo Ok Ora Ora dovresti tornare a seguirci Ora dovresti seguire me Dovresti seguire me Che poi Gli girano intorno alle bestie Ma mica le attaccano Tizio Oi Ah 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 Lo sento subito alle spalle Sì 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 Ora l'abbiamo fatto arrabbiare Decisamente La base è là sopra Non compare ancora Ma dovrebbe essere lì sopra Trappola mi compari Per cortesia Trappola Trappola Dov'è finita Ah ok ok Speriamo che Crypto Sia abbastanza lontano Da Non attaccare No 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 Si distraggono veramente Troppo facilmente Queste bestioline però eh Che un po' è un bene Un po' no Un po' è un bene E un po' no Che mi fanno perdere La marea infinita Di tempo Cici ciao Tu eri arrabbiato con noi Ti ricordi Sì no Sì 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 Si ricorda Si ricorda Ok Le porte sono aperte Le ho lasciate aperte Vero sì Ok Seguimi Bravo Perfetto Di qua Di qua Ok Ma ci passi davvero Tu per di qua Scusami È entrato Non ho capito No non è entrato Non è entrato Secondo me non ci passa Devo fare il portone Più grande Crippio cacchio Ciao 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 Vieni 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 Proviamo a prenderla Un pochino più dritta Guarda Guarda Aspetta 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 Così 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 Seguimi Ok 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 È dentro È dentro Ok 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 Fermi tutti Fermi tutti Ora il tizio mi colpirà malissimo Aia 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 Ok Una chiusa Una chiusa Una chiusa L'altra chiusa L'altra chiusa L'altra chiusa Perfetto 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 E lui è intrappolato lì dentro Ah 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 Muah ah 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 Come sono felice di tutto questo Ciao ciao bestiolina Ciao Cripto è rimasto lì tranquillo Perfetto Oh Ci è andata abbastanza bene Per ora Non so quanti Quanti dardi ci vogliono Sinceramente Però vabbè Non importa Ne abbiamo preso un bel po' Al massimo Andiamo Di dove ci sono le scatole Facciamo scorta Non posso averti mancato Ti prego Non posso averti mancato Ma che verso fa Tipo pigola Ma stai scherzando Sta pigolando per davvero Punturina sul culetto Punturina sul culetto Non puoi avere sete adesso Ginetto Non mi sembra il momento No aspetta che ci sta svenendo Ginetto Diamogli da bere Ah non ho l'acqua Non ho l'acqua Aspetta Aspetta Ok 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 Bevuto Bevuto Siamo disettati Vediamo di Far svenire la bestiolina Il più in fretta possibile Non dovrebbe riuscire a distruggerci A distruggerci la gabbia Comunque in pietra Cripto dovrebbe volerci un bel po' Prima che lui riesca a distruggerla Però non si sa mai Quindi cerchiamo di sbrigarci E vabbè ma quanti dardi ci vogliono Tizio Dai ti prego Ci puoi svenire un attimino Cioè i dardi mi dovrebbero bastare anche per Almeno avevo contato che mi sarebbero bastati anche per gli due argentavis Ma A sto punto forse no Ah vabbè dai dovrebbe essercene un bel po' Nelle scatole Vabbè al massimo facciamo un salto alla base Sai Non è poi così lontana Con Cripto ci arriviamo in un attimo E però il polverone E però il polverone Stai buono Stai buono Non ci vedo una cippa Porca miseria Solleva un polverone Incredibile Ok si sta girando Probabilmente sta cercando di scappare Ti prego non fuggi No 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 Che non ce la fai No che non ce la fai No che non ce la fai Non puoi passare da lì Non puoi passarci Ah Non ci vedo una mazza però tizio Stai fermo Stai impazzito È impazzito Guarda il polverone che sta tirando su Cioè proprio Non hai assolutamente voglia Di farti addomesticare Tu vero Cioè piuttosto la morte Probabilmente E invece no tizio Sarai nostro Invece sarai nostro E il casino Guarda il casino Che sta facendo Non ci vedo niente No vabbè Stai facendo un polverone assurdo Cioè con tutti i tranquillanti Che ti ho sparato Tu dovresti essere un po' più pacifico In questo momento Lo sai Ho beccato una roccia Perfetto Abbiamo anestetizzato una parete Ottimo Oh Si è incastrato No scherzavo Spero si fosse incastrato Un po' meglio Oh E ci è andato giù Alleluia Alleluia tizio Ci hai messo l'eternità Quanti dardi sono serviti Un centinaio E ce l'abbiamo inconscio Perfetto Ciao Ciao Sei svenuto malissimo Però sei veramente meravigliosa Ha dei colori stupendi Stabesta Mi piace tanto Ok Benissimissimissimissimissimo Vediamo di dargli un po' di narcotici E poi di andare a procurare Un pochino di primit Tanto qua in zona Dovrebbero esserci Dovrebbero esserci un po' di creature Che ci concedono La primit Eccoli Perfetto Ok 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 Crypto Tesorio Dai che dobbiamo andare a caccia Dai che dobbiamo andare a caccia Eccola primit Ecco la primit È servita Vediamo se ne troviamo ancora un po' Guarda qui Guarda qui Basta fare un giro su se stessi E trovi primit Trovi primit E com'è resistente questo E com'è resistente Ok Ci muoiono sempre malissimo Ste povere creature C'è un raptor tech Oh si tu sei un raptor tech Ma come sei bello Oh bene Buona sapersi che sei qua in zona Ok pucciolo Tieniti tutta la pappetta buona Mangia in fretta Non farmela scadere Mi raccomando Perfetto Niente Ora aspettiamo che il tizio qua sia domestiche Ma che bellino Che bellino Mi piace tantissimo Non vedo l'ora di Di poterlo utilizzare Stupendo Stupendo E nel frattempo Magari ci facciamo un paio di giri E vediamo se troviamo qua in zona Un paio di Argentavis Da prenderci così Al volo Capita la battuta All'argentavis Prenderli al volo Vabbè La smetto Non faceva ridere Me ne rendo conto Oh cavolicchio Lì c'è una viverna di cristallo Che si sta avvicinando Un pochino Dove abbiamo Intrappolato il grifone Vabbè Non si sta avvicinando tanto Però per me è già troppo vicino Ecco Che livello mi sei? 16 È di quelle brutte e cattive Però 16 Potremmo anche provare A buttarla giù E che pure Ce ne siano altre Qua intorno Che poi mi attaccano Tutte insieme Non è carino Ascolta Io provo a buttarla giù Facciamo la cacchiata Provo a buttarla giù A livello 16 Dovremmo farcela In teoria Ma riesco a beccarla Ma riesco a beccarla almeno No tanto non ce l'ha con noi Sì ce l'ha con noi ora Sì ora ce l'ha con noi Ora ce l'ha decisamente con noi Aspetta 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 Tizio tizio aspetta Aspetta Non vale che tu mi segui però Fammi rimettere un attimo In posizione Corretta Per riuscire a beccarti Schivata Adesso questa non ci mollerà mai più Vero ho fatto la cacchiata È un casino combattere Il combattimento tra viverne Perché hanno un angolo di virata Veramente schifoso Proviamo a fare così Verso l'alto E poi giù No niente Manco così Manco così Ci si riesce Niente ho fatto una cacchiata Sarà un combattimento eterno Un inseguimento lungo eterno Più come un combattimento Ok cambio tattica Vediamo se da qua riusciamo a colpirlo Ovviamente no Però ci manca anche lui Ottimo Perfetto Non riusciamo a beccarti Tra di noi Ah no aspetta Lui forse ora riesce Lui forse ora riesce E invece no ci manca comunque Ok cambiamo ancora tattica E proviamo a darci mozzicate Invece di scracchiarci in faccia Forse così ce la facciamo Dai che forse l'abbiamo Anche quasi buttata giù Ma ci sta finendo la stamina Cribbio cacchio E l'abbiamo buttata giù Un altro po' di primit Per la nostra creaturina Per di là Perfetto Uh ce l'abbiamo E abbiamo il grippone Abbiamo il grippone Ciao tizio No no calmati Calmati Aspetta Uhuh Aspetta Aspetta che ti voglio far uscire Guarda E vabbè è gigantesco È gigantesco Ma non riesco a farlo uscire da qui Senza buttar giù tutto Dai Piano Mamma mia come sono incazzosetti Che è una lentezza esasperante Ma forse ci siamo quasi Forse eh Oh così è molto più semplice Molto più semplice Speriamo solo che non mi cada in acqua Ecco appunto Ciao